Il pane ha un odore meraviglioso eppure è strano. Perché non è un odore naturale, è una cosa cucinata, ma forse è così buono, ci attrae così tanto, proprio perché è una cosa cucinata. Cucinata da qualcuno che si prende cura di noi. Mi siete mai chiesti chi ha cominciato a cucinare? Sicuramente non Sofialore, né Loro di Napoli, e neanche le passaglie napoletane. Ma forse, secondo i moderni antropologi, è stata una scimmia, questa scimmia. Questa scimmia un giorno è stato un incendio nella foresta e ha scoperto i tuberi che si erano scaldati sotto al fuoco. E ha pensato che forse questi tuberi potevano essere buoni per lei. E pian piano ha cominciato a utilizzarli, a sostituirli nella preparazione di tutti i giorni. Quindi anziché passare le giornate a masticare queste foglie abbastanza noiose, ha cominciato a sostituire piano piano dei vegetali cotti. Che cosa è successo? Poiché i vegetali cotti sono più soffici, le mascelle della scimmia si sono ridotte. Quindi la dimensione delle mascelle è diminuita, la dimensione del cervello è aumentata perché si era spazio nella scatola cranica. E quindi questa scimmia ha cominciato a diventare più intelligente. E quindi pian piano ha cominciato a pensare ed è diventata un uomo. Quindi attenzione, la scimmia è diventata un uomo perché ha cominciato a utilizzare alimenti cotti. Questo è estremamente affascinante. Perché? Perché noi sappiamo oggi che la cucina è il luogo della trasmissione del sapere. Sappiamo che cucinare per i nostri cari è una cosa estremamente importante. E oggi io, da chimico degli alimenti, vi dico che i cibi cotti sono più buoni, sono più digeribili, sono spesso più saporiti, non sempre ovviamente, c'è anche qualcosa di crudo che è molto buono. E allora cucinare è importante per la nostra evoluzione. E non è un caso che il Mediterraneo, la culla delle civiltà, è anche il posto nel mondo dove c'è una grandissima attenzione al cibo. E noi siamo al centro del Mediterraneo. Noi sappiamo quanto è importante per noi non solo mangiare, ma parlare di mangiare. Noi spendiamo tantissimo tempo a pensare cosa mangeremo. La sera della vigilia parliamo di quello che mangeremo al pranzo di Natale. Quindi è vero che i Mediterranei, che noi specialmente italiani del sud, non mangiamo per vivere, ma viviamo un pochino anche per mangiare. E questa è una caratteristica nostra importante che, ricordatela, vorrei che la tenessi a mente per la fine del mio talk. È importante, noi gioiamo nello stare a tavola, invitiamo la fidanzata a cena fuori, e per noi è un momento in cui attraverso il cibo facciamo passare anche tante altre cose. E il mondo ce lo riconosce. Nel mondo, se parlate a tavola italiano, vi capiscono. Spaghetti, maccheroni, pizza, mozzarella, ma anche espresso, latte macchiato. Imparano anche le parole difficili. Basta che siano italiane ed associate al cibo. Ok, il cibo è gioia, è cultura. Però adesso, se ci pensate, vicino al cibo vengono associate tante cose negative, prima di tutto un sacco di fobie, di cui oggi non vi voglio neanche parlare. Poi c'è il problema dell'obesità, del fatto che questo cibo, mannaccia, è buono ma ci fa ingrassare. È vero, sono problemi, ma c'è un problema molto più grande che bisogna studiare. È il problema di come fare a nutrire il pianeta. Nel 2050 ci saranno 3 miliardi di persone in più, se non se ne andranno tutte su Marte, come avete sentito prima. Questi 3 miliardi di persone in più le dovremo far mangiare. Quindi, oddio, come faremo a far mangiare tutte queste persone? Ecco, questo è un problema centrale che si studia nell'università dove io adesso lavoro, in Olanda, a Wageningen. Far mangiare tutte queste persone. Allora, cominciamo a dire una cosa. Non è vero che nel mondo non c'è abbastanza cibo. Il problema, da un lato, è lo spreco, dovremmo sprecarne meno. Dall'altro, è il fatto che il cibo viene essenzialmente da tre fonti. Grano, mais e riso. Queste tre fonti che cosa hanno? Buonissime, facciamo i risotti, la pasta. Però, hanno tanti carboidrati e poche proteine. E a noi le proteine ci servono. Ci servono per crescere. Ci servono per mantenere i muscoli. Queste proteine, da dove le prendiamo? Dai cibi sostanzialmente animali. Carne, pesce, derivati. Le possiamo prendere dai vegetali, è vero. Le possiamo prendere dalla soia, principalmente. Ma anche la soia è limitata. Consuma terra per poterla coltivare. Consuma acqua. E queste risorse sono finite. Serve troppa terra, serve troppa acqua per produrre proteine. Quindi il problema è che le proteine non sono sostenibili. Teoricamente ne dovremmo mangiare di meno. Ma in realtà non riusciamo a mangiarne di meno. Quindi il problema qual è? È trovare nuove fonti di proteine. La cosa più promettente è cercare gli organismi in un cellulare. Come per esempio il lievito. Il lievito è una buona fonte di proteine. Oppure delle alghe, delle microalghe. Non le alghe che trovate a mare. Ma le microalghe che sono una ricca fonte di proteine. Oppure dei funghi. Oppure c'è adesso la gran moda degli insetti. Gli insetti sono potenzialmente una bellissima fonte di proteine. Ecco, voi già adesso con la vostra mente state pensando ai grilli nel piatto. Io non ve li faccio vedere apposta. Perché non pensiate che questo sia il problema. Questo è il modo di ragionare. Ognuno pensa partendo da noi stessi. Invece il problema dell'accettazione del consumatore è l'ultimo dei problemi. Il problema vero è un altro. Il problema è che noi viviamo in questa società. Nel mercato globale dobbiamo dare da mangiare a 9 miliardi di persone. E 9 miliardi di persone vanno nei supermercati e comprano delle cose che costano pochi euro per chilo. Quindi bisogna produrre le farine, quanto costano? Meno di un euro al chilo. Quindi noi dobbiamo produrre in grande quantità a poco prezzo. Altrimenti è uguale. Ci sarà sempre fame nel mondo. Allora come si fa? Il problema è produrre grandi quantità di questi nuovi alimenti a pochi euro per chilo. Una ricerca bellissima sulle microalghe. L'abbiamo fatta con i colleghi dell'Università Federico II, al Dipartimento di Agraria. Dove cresciamo queste microalghe che vi dicevo prima. La spirulina, la botryococcus. Spirulina forse qualcuno di voi l'ha sentita. Compra le pillole oppure degli integratori. Quanto costano? Tantissimo. Non possiamo pensare di far mangiare il mondo con una cosa che costa 50 euro al chilo o 10 euro una confezione di pillole. Non è possibile. Noi abbiamo trovato delle tecnologie povere, come queste vasche che vedete, che riescono ad abbattere il prezzo di crescita di queste microalghe. E allora è possibile metterle come ingredienti, per esempio, nella pasta. E si fa la pasta con la spirulina. E questa è una pasta a un prezzo accettabile. Per gli insetti, voi pensate allo schifo degli insetti nel piatto. Per me, per noi ricercatori, il problema è farli crescere. Come si fanno crescere tonnellate di insetti? È un problema molto difficile che si sta studiando e adesso, per esempio, siamo riusciti a produrre insetti che possono sostituire le farine di pesce. Le farine di pesce vengono usate per l'alimentazione in acquacoltura, per esempio dei salmoni. E adesso, anziché prendere calamari e altri animali del mare, quindi i cosiddetti stock ittici, si possono sostituire con queste farine di insetti. Quindi, fine della prima parte, il problema di risolvere la fame nel mondo, di dare calorie a 9 miliardi di persone, non vi preoccupate. Ci arriveremo. C'è però un altro problema, invece di cui ci dobbiamo occupare, vi dovete occupare. È il problema della cultura del cibo. Vedete, questo, ve lo ricorderete, è l'Expo di Milano, grande evento dell'anno scorso. Lo slogan dell'Esplo di Milano era nutrire il pianeta. Ora, se ci pensate, è questo che voi vorreste per voi? Essere nutriti? Questo che pensate per i vostri figli, nipoti? Nutriti? No. Lo date per scontato che sarete nutriti. Quello che voi pensate, mi auguro, è fargli assaporare la gioia del cibo. Quello che abbiamo detto prima, è il bello dello stare a tavola. Quello che ci contraddistingue come meridionali, come italiani del sud. Amiamo il cibo. Ed è questo che noi dobbiamo insegnare al pianeta. Non siamo da soli. C'è tanta cultura del cibo nel mondo. Noi sappiamo che lo spaghetto col pomodrino si fa in un certo modo con la foglia di basilico messa alla fine. I cinesi sanno che gli scorpioni si devono fare allo spiedo arrostiti su legna verde. Noi sappiamo che le zucchine alla scapece vanno fatte con la menta. In Zimbabwe, questi vermi, che si chiamano vermi Mopame, sanno che si devono fare con un trito d'aglio e di pomodorino. È cultura. È cultura del cibo. Il nostro problema non sono quelli che hanno cultura. Sono quelli che non ce l'hanno la cultura del cibo, che sono la maggioranza. Sono questi. Sono quelli che possono mangiare anche la pasta. Ma si mangiano la pasta in scatola. Possono mangiare anche gli insetti, ma loro li chiamano sostituti della carne e sono hamburger. Mangiano cose dolci e non sanno che cosa è la cassata. Riempiono tutto di maionese e non hanno mai assaggiato lo zazzichi. Sono loro il problema. E sono loro, io questa è la mia vera paura, sono loro che vinceranno. Perché quando loro vinceranno ci sarà una bella global diet, tutti mangeremo più o meno le stesse cose, perfettamente nutriti. Ma che tristezza. A meno che noi, proprio noi, quelli che ce l'hanno la cultura del cibo, elaboriamo una strategia vincente. Cosa abbiamo fatto fino adesso? Quando pensate alla strategia del cibo, qual è? La difesa del made in Italy. Giochiamo in difesa. E come direbbe il mio amico di prima, se tu giochi in difesa, prima o poi un gol lo prendi. Allora non dobbiamo giocare in difesa. Perché se pensiamo a nutrire il mondo, non possiamo nutrire tutto il mondo con il cibo italiano. Non ce la possiamo fare. Non tutti nel mondo possono mangiare quello che viene prodotto nella piccola Italia. Però possiamo esportare la cultura del cibo. E questo l'ho imparato molto bene in Olanda, dove lavoro adesso. In Olanda hanno una strategia che chiamano il triangolo d'oro, che mette insieme lo Stato, gli istituti di ricerca e le imprese alimentari. Che cosa fanno col triangolo d'oro? Vanno nei diversi paesi del mondo, trovano gli studenti migliori e li portano a studiare in Olanda, insegnano le cose e intanto le aziende stanno in quel paese e imparano la cultura di quel paese, si insediano in quel paese e cominciano a migliorare i prodotti locali. Sembra astratto. Vi faccio un esempio su cui stiamo lavorando adesso. Siamo in Zambia. E in Zambia esiste una grande popolazione rurale che pian piano si sta spostando nelle grandi città. Nei villaggi dello Zambia è molto popolare un prodotto che si chiama Mabisi. Il Mabisi è uno yogurt sostanzialmente, è un latte fermentato che noi abbiamo studiato ed è buonissimo, con dei fermenti lattici all'interno molto buoni anche per la salute. Cosa succede? Che questo Mabisi viene prodotto con il latte della mungitura serale. La sera viene munto il latte ma non lo possono portare da nessuna parte per i trasporti, per l'elettricità e quindi questo latte, per non buttarlo, viene fermentato e viene fermentato in quelle zucche che vedete. Ora noi stiamo facendo un progetto con questi villaggi, abbiamo migliorato il Mabisi, lo abbiamo stabilizzato e adesso questo Mabisi può arrivare nelle grandi città dove trovano le persone che lo mangiavano prima, che lo mangiavano prima di trasferirsi nella città. Quindi lo stanno riscoprendo, riutilizzando la loro cultura del cibo e hanno allo stesso tempo un miglioramento nutrizionale, le famose proteine che dicevamo all'inizio. Quindi questo a livello di sistema è quello che possiamo fare. Ma c'è anche un'altra cosa che è quello che può fare ognuno di voi. Ognuno di voi può parlare di cibo, può spiegare quello che per noi è naturale. Gli ingredienti, la freschezza, l'importanza dei sapori. Singoli, non mettere 22 ingredienti sopra una pizza perché è più buona. La pizza, pomodoro, mozzarella, basta. Non serve riempirla di cose. Questo pane, questo pane che vi ho fatto vedere all'inizio, perché è buono. È buono perché ieri sera qualcuno l'ha impastato, stanotte ha lievitato, stamattina presto qualcuno si è alzato per prepararlo. E noi lo troviamo normalmente, ci sembra naturale, ad ogni angolo. Ma questo nel mondo mica lo conoscono. Nel mondo mangiano questo, questo pane molliccio e senza sapore. Questo mangiano, questo nutre come questo. Le stesse calorie non fa né bene né male, nutre uguale. Ma io questo a tavola non ce lo metto. Metto questo. Ecco, è semplice quello che vi chiedo come messaggio da ricordare. Molto semplice. Spiegate a tutti come mettersi a tavola. Grazie. 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 Grazie.